ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video della tutto tech in questo video molto veloce cerco di essere il più breve possibile vi voglio presentare le anteprime del amazon prime day certo perché tutti coloro che sono abbonati al prime hanno la possibilità di un accesso anticipato a tante offerte e oggi ve ne presento qualcuna poi dopo quando ci sarà il prime day faremo un altro video su tanti altri prodotti perché ci sarà un'ondata di prodotti in offerta non siete ancora abbonati prime dai ragazzi però tenete presente che avete la possibilità di fare la descrizione gratuita per 30 giorni quindi potete farla adesso ne usufruite e poi se non volete più tenere questo tipo di abbonamento mandatela disdetta alla scadenza del trentesimo giorno vi da un sacco di vantaggi dalla consegna un giorno all'acquisto di prodotti freschi piuttosto che prime video quindi tantissimo una piattaforma veramente enorme di serie tv film e tanto altro e poi molti e molti altri vantaggi che potete leggere una volta fatta l'iscrizione ma anche prima li potete leggere in modo tale da avere una idea generale di quello che vi può portare ma non perdiamo tempo e andiamo a vedere l'offerta bene partiamo subito con il protagonista degli eco stiamo parlando dell'eco dot di quinta generazione da 51 euro 99 a 26 ore 99 e poi abbiamo dei bundle con l'eco tot quindi se per caso volete acquistare il vostro eco e poterlo utilizzare immediatamente magari con qualsiasi cosa in casa una lampada un elettro domestico abbiamo dei bundle con una presa smart o una lampadina della philips a 31 euro 99 se poi invece lo vogliamo abbinare al ring intercom che vi ricordo essere il dispositivo che rende smart il vostro citofono si va a 61 euro 99 trovate qui sul canale il video di presentazione del prodotto con l'installazione eco show 8 di terza generazione più la lampadina philips da 185 98 a 144 99 oppure in bundle con una presa smart a 144 99 eco pop vero protagonista del taglio del prezzo e ottimo prodotto anche da acquistare come entry level per quanto riguarda la domotizzazione di casa si va da un prezzo iniziale di 54 99 a 19 euro 99 cioè mi raccomando approfittate di queste occasioni poi anche su questo hanno fatto il bundle perché è molto importante fare il bundle in modo tale che la persona acquisti sì il dispositivo eco ma che poi ci avvini anche un prodotto che renda smart i vostri elettrodomestici o le lampade le lampadine di casa quindi compresa smalta o con lampadina philips a 24 euro 99 eco spot ho appena fatto il video pochi giorni fa acquistato a prezzo già di vantaggio di 54 euro 99 da un prezzo di partenza di 94 euro 99 e questo motivo in più per poter fare l'abbonamento prime e valutarlo per 30 giorni eco show 5 di terza generazione stiamo parlando degli eco con il display che vi possono fare anche da videocamera di sorveglianza di questi prodotti trovate comunque i video qui sul canale da 91 euro 99 a 59 euro 99 in bundle con presa smart o lampadina philips a 64 euro 99 e poi andiamo sui grossi calibri un po più importanti degli eco show stiamo sto parlando di eco show 10 da 260 euro 99 a 209 euro 99 con la possibilità di muovere il tablet passatemi il termine il display che può ruotare cosa molto importante anche come video sorveglianza perché vi ricordo che gli eco show hanno la possibilità tramite l'applicazione di potersi connettere al dispositivo e vedere cosa sta succedendo in casa e poi arriviamo al pezzo grosso della serie eco show l'eco show 15 da 299 euro 99 a 229 euro 99 anche di questo trovate naturalmente il video sul canale tutto ecco auto su questo ve lo dico sinceramente è probabile che con la partenza il giorno 16 luglio del dell'amazon prime cali ancora un pochettino però nel frattempo lo troviamo da un prezzo di partenza di 69 euro 99 e sinceramente è un po' tumace un po' troppo come prezzo attualmente lo troviamo a 49 euro 99 prezzo che già si avvicina secondo me alla linea del prodotto andiamo poi sulla sorveglianza di casa la video sorveglianza abbiamo un bel bando una videocamera blink una mini e un video doorbell che sarebbe lo spioncino smart più il sync module a 198 97 a 89 99 andiamo poi su un prodotto che ho acquistato mi manca solamente l'accessorio che adesso è in offerta naturalmente ne approfitterò stiamo parlando della videocamera mini più l'accessorio per poter ruotare la videocamera in qualsiasi angolo della casa il pan tilt 44 99 a 26 euro 99 telecamera più il pan tilt credetemi è un ottimo prezzo perché le videocamere sono davvero eccezionali se poi vogliamo coprire una superficie maggiore della casa sia interna che esterna mi sto parlando delle videocamere blink outdoor 4 videocamere da 399 e 99 passa 108 e 49 io l'ho acquistato questo bando l'anno scorso e devo dire che sono davvero eccezionali queste erano solo alcune delle offerte che possiamo trovare anticipatamente a tutti i felici possessori di un abbonamento prime e vi invito nuovamente a cliccare qui sotto e diventare anche voi abbonati prime per 30 giorni perlomeno usufruite di questa vantaggio di questi vantaggi che ci offre dopodiché al trentesimo giorno se l'iniziativa di tutto quello che vi offre prime vi può piacere rimanete abbonati e pagherete l'abbonamento annuale se invece non vi interessa più vi basterà disdire e siete a posto bene ragazzi io direi che per questo video è tutto vi lascio qui sotto i link in descrizione di tutti i prodotti che vi ho presentato e ci vediamo al prossimo video con tante altre vantaggiose offerte del prime day ciao grazie a tutti